Ciao, sono Marco Doria e oggi ti racconterò la vita straordinaria di Ada Lovelace, contessa all'anagrafe Augusta Ada Byron King. È la prima nerd informatica della storia, ma anche la prima programmatrice del mondo. Ed è nata, pensate un po', nel 1815. Per noi un qualcosa di straordinario, ovviamente, ma indecoroso, ovviamente, per una donna dell'epoca poter intendersi di numeri. E pensate un po' che ha inventato il software per il calcolatore meccanico di Babbage, il padre dei computer. Ma c'è dell'altro che fa di lei una figura da ricordare. È la figlia non voluta dell'arcinoto folle Lord Byron, poeta donnaiolo, stravagante, genio della letteratura in versi, ma anche un generatore di scandali e scelleratezze. Ada combatte fin da bambina con una salute molto precaria. Ma nonostante questo, è ferma e determinata nel portare avanti la sua genialità. Anche contro gli ostacoli che troviamo nel XIX secolo, che ovviamente non riconoscono le capacità di una donna. I riconoscimenti arriveranno postumi. Ad esempio, considerate un po' che il linguaggio di programmazione EIDA, elaborato nel corso degli anni Ottanta, si chiama così proprio in suo onore. Ma ora vediamo meglio cosa ha fatto, come l'ha fatto e quando l'ha fatto. 10 dicembre 1815, Ada Lovelace nasce con il nome di Augusta Ada King Byron, a Piccadilly Terrace, a Londra, ovviamente nel Regno Unito. Suo padre, come abbiamo detto, è il poeta Lord Byron. Sua madre, invece, si chiama Anne Isabella Milbank. 16 gennaio 1816. Lord Byron e Anne si separano. Il poeta caccia di casa la moglie e non vuole sapere più niente della bambina. Ada non avrà mai una buona relazione con il padre, perché è un donnaiolo, un ribelle, un anticonvenzionale, un individualista, ha atteggiamenti dissoluti, ed è ipercriticato e accusato di sfidare le autorità, le norme sociali ed ha idee politiche contrastanti con il sistema. Si sposa, divorzia, insomma, fa dei disastri davvero molte volte. Infatti, per Ada, questo avrà un impatto fortissimo nella sua vita personale. Avere un padre così, certo, non ci risparmia da traumi e da portarci dietro i traumi infantili. La madre, quindi, torna a casa dei suoi genitori con la piccola Ada. Contesto storico, siamo nella Londra vittoriana. La giurisdizione dice che in caso di separazione la piena custodia dei figli è del padre. Alla madre, ovviamente, sono negati tutti i diritti di tutela, di custodia, di affidamento e di cura. Ma il poeta se ne frega beatamente. Non ha alcun interesse per sua figlia. Pare in quanto una femmina. Consideriamo già che il contesto dell'epoca è fortemente maschilista. In più, il poeta non è un uomo che si fa carico di responsabilità già per natura. Quindi, nel 1816, Lord Byron firma il documento di separazione e se ne va per sempre dal Regno Unito. Ada cresce sotto la custodia della madre, con la quale però non va d'accordissimo. La madre spinge su un'educazione molto rigorosa, incentrata sulla matematica. E questo proprio per evitare che assomigli al padre, instabile e creativo. Quindi la sprona raggiungere obiettivi scientifici che possano distogliere la sua attenzione dagli scandali. Ada si sentirà spesso non amata e incompresa dalla madre. Però avrà anche una profonda ammirazione per le sue capacità intellettuali. Si sforza sempre di compiacerla e di dimostrarsi all'altezza delle sue aspettative. Nel 1822, all'età di 7 anni, Ada inizia a soffrire di gravi emicranie che le causano anche problemi alla vista. Ma nonostante questo, andrà avanti lo stesso. Infatti, all'età di 13 anni, nel 1828, Ada inizia a frequentare lezioni private con il matematico e logico britannico Augustus de Morgan, durante le quali sviluppa la sua passione per la matematica e per la logica. In realtà, come detto prima, la passione per la matematica deriva dall'influenza della madre, che è un po' per indole personale e un po' per reazione nei confronti dell'ex marito, che odiava tantissimo. Però, Ada dimostrerà anche un'indole poetica e anche doti letterarie, come per la scrittura, per esempio, ereditate dal padre. Ciò si tramuterà in un visionario approccio multidisciplinare, cioè nella capacità di coniugare doti tra loro molto diverse, come per esempio, appunto, la matematica e la scrittura. Nel 1829, a 14 anni, Ada si ammala di morbillo e resta paralizzata. Li prenderà a camminare soltanto due anni dopo. Insomma, un'infanzia tra lo studio e gli acciacchi di salute. Ed ecco però che nel 1833, all'età di 18 anni, Ada fa un incontro molto importante, ovvero incontra il matematico Charles Babbage alla corte di Re Guglielmo IV. L'uomo stava lavorando su una macchina analitica, un dispositivo meccanico per fare calcoli complessi. Insomma, una macchina calcolatrice meccanica particolarmente innovativa per l'epoca. Babbage da quella sera la definisce l'incantatrice dei numeri, tanto che è colpito dalle sue abilità matematiche. Sembra, infatti, che pochi giorni dopo averla conosciuta le scrive una lettera in cui le dice «Dimentica questo mondo e tutti i suoi guai, e se è possibile, con tutti i suoi numerosissimi ciarlatani, ogni cosa, insomma, tranne l'incantatrice dei numeri». Quindi negli anni 30 inizia a lavorare con Babbage. Teorizza su come la macchina possa essere utilizzata per generare non solo numeri, ma anche dei simboli. Difatti siamo per la prima volta nella storia di fronte a una persona che concepisce l'idea di un programma per un computer, sebbene tale macchina non fu mai costruita durante la sua vita. È il 1840 e, come tutte le donne dell'epoca, cerca un marito. Infatti si sposerà con William King, conte di Lovelace, e diventa ufficialmente la contessa di Lovelace. Nel 1842 avviene un piccolo riconoscimento, ovvero le sue annotazioni sulla macchina analitica, vengono tradotte dall'ingegnere Luigi Federico Menabrea. Le note includono un algoritmo per calcolare i numeri di Bernoulli, utilizzando la macchina di Babbage, che è la prima vera sequenza di istruzioni per un computer. Le note includono infatti i concetti di programmi e loop. Si tratta proprio del primo algoritmo mai scritto per essere eseguito da una macchina. Si tratta quindi di programmazione. Ada diventa quindi la prima programmatrice della storia. Ma sai che suggerimento ti darebbe oggi Ada Lovelace se fosse qui presente? Ti direbbe non fare tutta la fatica che ho fatto io. Se vuoi imparare la programmazione, iscriviti a COD, l'accademia, che ti permette in nove mesi di diventare un programmatore full stack. Come fare? Link in descrizione. La relazione con Babbage però prende una piega molto diversa. Non è più tutto rosa e fiori come all'inizio, l'uomo comincia a criticarla. Dice che ha enfatizzato troppo la parte poetica nelle sue note, nel suo articolo. Insomma, che ha esagerato con alcune affermazioni. E quindi si creano delle tensioni nella loro collaborazione. Nel 1843 viene pubblicato l'articolo di Ada M. Nabrea intitolato Notazioni di Charles Babbage riguardante la macchina analitica. L'articolo è abbastanza lungo da essere considerato un vero e proprio libro ed è molto apprezzato per la chiarezza delle spiegazioni e l'intuizione sulla programmazione. Purtroppo il 27 novembre 1852, pochi giorni prima di poter compiere 37 anni, Ada Lovelace muore a Londra a causa di un tumore all'utero e verrà sepolta accanto a suo padre, Lord Byron, che non ha mai conosciuto. Ada Lovelace è stata una visionaria matematica e scrittrice inglese vissuta nel XIX secolo. Figlia, come abbiamo visto, della passione di due menti anch'esse straordinarie ma agli antipodi l'una rispetto all'altra. La madre con un raziocinio sopraffino, il padre instabile creativo. Ada ha vissuto con un'inarrestabile determinazione proprio contro le barriere dell'Inghilterra vittoriana e portando avanti sempre il suo lavoro in ambito scientifico e matematico anche quando paralizzata e gravemente ammalata. Dopo la sua morte, la sua visione e il suo lavoro vengono rivalutati e apprezzati come una pietra miliare nel campo dell'informatica. Nel corso del tempo, infatti, diventa nota come una delle prime pioniere nella programmazione. L'Ada Lovelace Day oggi si celebra il secondo martedì di ottobre ed è un evento che ha lo scopo di sensibilizzare il contributo delle donne nei campi STEM. La sua eredità continua a ispirare donne e uomini in tutto il mondo a proseguire la passione per la matematica, la scienza e la tecnologia. Cosa ci portiamo a casa da questa storia straordinaria? Eida ha avuto una vita atroce, piena di dolori e sofferenze, è stata immobile anche per due anni, e in un'epoca dove il cervello delle donne non veniva assolutamente riconosciuto è riuscita a diventare la prima programmatrice della storia. Come l'ha fatto? Ovviamente con determinazione, ovviamente continua, ovviamente non avendo mai mollato, ed è questo che dobbiamo imparare ragazzi, dobbiamo imparare che nonostante le circostanze, nonostante il contesto, dobbiamo andare avanti, dobbiamo portare avanti la nostra missione, se abbiamo una missione dobbiamo arrivarci in qualche modo, un piccolo passo alla volta, nonostante le condizioni esterne. Se ce l'ha fatta lei a fare un'impresa così straordinaria, sicuramente tu potrai fare la tua nel tuo piccolo e essere anche tu straordinario. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, solito like, solito commento e solito ci vediamo alla prossima.